Ciao papà, sono qui perché ho bisogno di parlarti, vorrei dirti che è da tanto tempo che stavo pensando a questa cosa, vorrei prendere in mano la mia vita, so che tu non lo capirai, so che è difficile per te ma è arrivato un tempo, sono diventato adulto e non posso più fare quello che tu mi dici, quello che tu vuoi, so quello che pensi, so tutti i tuoi pensieri che conosco però io non sono te.